Buongiorno a tutti, oggi iniziamo questo percorso sull'edutainment e cercheremo di capire all'inizio con me e poi con altre persone che in qualche modo toccano questo argomento da più punti, che cosa significa e perché è sempre più interessante ma soprattutto urgente che altre realtà nascano e affianchino il sistema tradizionale di istruzione o dell'apprendimento come lo immaginiamo e come l'abbiamo immaginato e come l'abbiamo vissuto fino adesso. Di cosa parleremo oggi soprattutto? Allora innanzitutto diremo che oggi qua a Putignano c'è il sole e quindi che le condizioni atmosferiche che ci iniziano sotto i migliori auspici. Ci presenteremo utilizzando un tweet, faremo una premessa doverosa e questa premessa sarà doverosa perché andremo a trattare velocemente, ve lo prometto, alcuni punti che sono però nodali per capire lo sviluppo e la necessità dell'edutainment, cioè la scuola 1.0. Poi ci sarà una prima e una seconda lettura, come ogni frontalità è necessaria metterla e poi toccheremo alcune ricerche condotte da Charles Liedbider e Ken Robinson sulla riforma dei modelli educativi e le nuove figure degli imprenditori sociali. Dopodiché nel pomeriggio, se riusciamo innanzitutto a fare tutto questo in una mattinata sarei già molto contento, nel caso cercheremo di diluirla, siccome parliamo di edutainment cercherò di rendere il meno noioso possibile questa nostra chiacchierata e questo nostro incontro e soprattutto per farlo ho bisogno di conoscere già il potenziale che ho di fronte, cioè le esperienze e di far conoscere a voi le esperienze di ognuno. Perché uno dei principi è proprio che in realtà il docente deve sempre meno essere presente come figura, tra virgolette, dominante, ma lasciare spazio anche alle esperienze e ai contributi che già sono presenti e che sono importanti e possono andare a definire meglio quello che può essere un punto importante rispetto a quello che si affronta in aula in quel momento. Quindi la prima cosa che vi chiedo è di presentare il proprio vicino con un tweet siccome siete un po' dispersi, questa è una buona occasione per cominciare a ravvicinarsi e cosa significa? Di chiedere sostanzialmente a chi ci sta di fianco chi è, cosa fa e perché è qui e di raccontarlo molto sinteticamente dopo quindi presentare l'altro. Cinque minuti. A partire da ora invece per chi ci segue in streaming possiamo farlo lo stesso a casa o suonando al vicino o con chi c'è proprio vicino ecco siccome credo ci sia anche una su twitter ecco questa è una cosa che possiamo fare anche su twitter No, poi lo presentiamo a veloce avete fatto benissimo No, no, ma andate pure avanti non è che... serve anche a questo serve innanzitutto a conoscersi quindi non è un problema però se avete finito come si dice procediamo Ok Andiamo allora Adesso vi chiedo di presentare appunto il vicino quindi ricordo che non ci sono voti nei giudizi che non... questa non è un luogo di scuola dove lasciamo un attestato con un voto ma è semplicemente uno spazio in cui per un momento ci regaliamo un momento appunto un tempo per approfondire alcuni aspetti e io avrò magari delle cose da dire ma sono certo che anche voi ne avrete altre tante e quindi condividere questo tempo assieme Iniziamo da chi vuole vi lascio la parola Allora, lei è Bianca è laureata in lettere e sono facendo una speciale in spiegato di linguistica con indirizzo cognitivo una laurea io non l'avevo mai sentita mi me la sono appuntata è molto interessata all'ambito notativo ovviamente perché è molto collegato alla sua professione di conseguenza è molto interessata a questo corso ed è un time perché vorrei praticare di metodi innovativi di fatto? No, no di metodi educativi per ovviamente migliorare questo aspetto ovviamente educativo per quanto attiene la sua professione è anche una crown terapeuta ha fatto un corso però non si è mai sperimentata in questo perché ovviamente studia fuori non ha avuto questo tempo e niente ha molte passioni ha molti hobby Allora, lei si chiama Maria è un'assistenza sociale ha avuto in realtà molte esperienze di docenza in vari ambiti e lei ha detto che si definisce comunque una nella pratica diciamo un'imprenditrice sociale è molto interessata al corso perché vorrebbe che questo corso le fornisse un arricchimento anche teorico o metodologico per poi applicare queste cose nel suo lavoro di tutti i giorni lei lavora con varie associazioni in particolare adesso si sta occupando di un'associazione che opera nell'ambito di maternità e nascita e quindi sarebbe molto interessata a poter dare anche consigli a genitori con cui si ritrova a parlare ogni giorno in ambito educativo e diciamo di formazione e vabbè pensa che le persone in realtà siano quelle che fanno la differenza in questo tipo di lavoro al di là delle varie teorie o metodi e le piace mettersi in gioco sperimentarsi niente grazie non so che altro vabbè le interesse il corso perché insomma il suo ambito e in più fa parte del circolo di Pasano dove fanno bei concerti lei è Silvia si occupa di grafica e ha detto che tendenzialmente pensa che forse non c'entri niente in questo corso però in realtà dato che molto probabilmente in questo corso si metterà in gioco anche la creatività insomma lei in questo può essere ben fornita diciamo e quindi comunque ha anche fatto un'esperienza come educatrice quindi in un certo senso comunque ha avuto a che fare con esperienze con bambini e quindi diciamo potrebbe unire l'esperienza dal punto di vista educativo con la sua esperienza con la creatività e riuscire a mettere insieme le cose in questo corso Allora lui è Giuseppe è un biologo e collabora in un centro ambientale e qui per ampliare le conoscenze sulla didattica è una guida pure ambientale Lei è Rossana viene da Castellana Grotte è una psicologa e da qualche anno esercita la professione chiamiamola così di babysitter e quindi vorrebbe diciamo implementare le sue conoscenze nell'ambito educativo in questo contesto grazie lei è Etta vive a Fasano la maturità scientifica e si occupa di laboratori di cucina in questo momento laboratori per bambini e quindi vorrebbe imparare a gestirli meglio lei invece Maria vive a Fasano è diplomata all'istituto magistrale in passato ha avuto a che fare con bambini perché li aveva dopo scuola in questo momento vista la sua situazione lavorativa si sta dedicando in particolar modo a organizzare degli spazi dei progetti di volontariato presso la parrocchia per cui era interessata al corso in maniera tale da poter gestire al meglio queste possibilità e anche le persone e i bambini con cui ha a che fare dunque lei è Valeria e di Putignano è una prossima laureanda in scienze pedagogiche a giorni ha avuto esperienze come operatore sociale e anche educatrice e frequenta questo corso per conoscere i metodi dell'edutainment e praticare dei laboratori proprio per sviluppare quella creatività quindi quella praticità nell'educare lei è Lisa è laureata in programmazione e gestione dei servizi educativi è attualmente un'educatrice in una comunità per minori sta frequentando una scuola di specializzazione in pedagogia clinica è clown terapeuta e frequenta perché anche lei ha bisogno di stimoli e divertenti che vadano quindi oltre l'educazione classica allora lui è Michele si occupa di zoo antropologia assistenziale ed è un educatore cinofilo inoltre è presidente dell'associazione Namira che è appunto un'associazione a stampo zoo antropologico ed ha svolto diversi progetti appunto in questo ambito e viene da Barletta ok ciao a tutti lei è Valentina è una laureata in scienze della formazione e dell'educazione e sta frequentando un corso di specializzazione in mediazione familiare è anche vicepresidente dell'associazione l'isola felice l'isola che non c'è scusate e sono anche molto felice sono anche molto felici e appunto loro lei principalmente sta frequentando questo corso per implementare la sua voglia appunto dell'educare e divertendo presento anche Erika lei è Erika è una studente di giurisprudenza e ci ha tenuto molto a specificare che fa la pendolare e quindi credo che le pisi molto e sta studiando tantissimo lei invece è la presidente della dell'associazione della stessa associazione l'isola che non c'è e anche lei è molto felice e quindi ok passo il microfono ciao a tutti lei è Marilena abbiamo scoperto che in comune oltre ad essere qui abbiamo anche lo stesso cognome Recchia lei è di Gioia del Colle ed è di base un'insegnante di danza classica ma essendosi diplomata in un diploma di specialistica in danza terapia leggo perché è una cosa abbastanza nuova quindi non sta facendo questo corso perché è interessata ad ampliare le sue conoscenze in quanto sta intraprendendo un nuovo percorso con una sua collega che è anche qui per una scuola che comunque tratterà la danza terapia quindi la conoscenza della persona attraverso i movimenti del corpo ciao a tutti lui è Flavio originario di Noci ma vivo a Putignano ha 23 anni al momento è disoccupato perché questa è la realtà di questi giorni di base geometra però fa parte anche lui dell'isola che non c'è l'associazione di promozione sociale ed è qui perché vorrebbe ampliare le sue conoscenze personali in quanto essendo in questa associazione vorrebbe avere una formazione amplia per poter sviluppare quelli che sono i progetti che l'associazione vorrebbe anche in futuro svolgere ciao a tutti lei è Nadia Diana scusami è di Putignano ha 22 anni ed è una una ragazza a cui piace fare di tutto è un vulcano in attività le piace non stare ferma anzi se sta ferma se ne va in depressione anche se iscritta a giurisprudenza sente però di non essere proprio portata per questa strada e si occupa di tante cose ha messo su con degli amici una web radio qui a Putignano e il suo format è ospite indiscreto scrive anche per una testata locale la voce del paese dico il nome della radio che ha un termine putignanese radio yuso pirata perché di Putignano ha un senso quello yuso è un modo di dire dei locali insomma del centro storico se ho capito bene poi fa anche un corso ultimamente sta frequentando un corso di formazione per volontari che si occupa della dipendenza da vari tipi di vari tipi di dipendenza dalla tossicodipendenza dipendenza dal gioco alcol cos'è un po' ampio e niente la sua voglia di essere un po' creativa questa è una nuova esperienza a livello di di argomento però rientra in quelle che sono quelli che sono proprio i suoi interessi quindi di occuparsi anche a parte anche degli altri e farlo anche in un modo divertente in un modo innovativo per poterlo aggiungere poi a tutto il resto e decidere poi cosa fare nel concreta non concretamente come continuare la sua vita da creativa ti ringrazio per la presentazione allora lei è Anna Maria da radio proprio da radio lei è Anna Maria viene da Giolel Colle è sposata e ha due bambine ha conseguito il diploma presso il conservatorio di Bari in pianoforte e quindi è diventata insegnante di musica e diciamo che ha preso parte a diversi progetti per anche gli asili quindi insegna per i bambini anche lei ama tantissime cose è molto impegnata nel sociale perché ad esempio ha portato avanti interessi come il volontariato per la parrocchia e con la sua socia sta cercando di mettere in piedi insomma un centro che coinvolga tutti i membri quindi non solo bambini ma anche genitori insomma le diverse figure della famiglia e al centro di tutto c'è appunto la danza terapeutica che è insolita in effetti come attività però può essere magari diciamo buona per proprio perché è insolita secondo me ha una passione per il canto e pensa che sia importante proprio educare in quanto crede in questo diciamo principio e è importante per lei anche farlo con il sorriso trasmettere gioia felicità ancora impegnata sempre nel sociale in quanto ha fondato una lista civica quindi anche la politica di questi tempi insomma non è che sia proprio il massimo è nulla penso di aver detto tutto grazie ok sì noi siamo stati in ritardo siamo arrivati tardi vi chiedo l'autopresentazione questo come l'autocertificazione vengo da Sava però vivo a Roma da quattro anni mi occupo di didattica museale faccio laboratori d'arte insomma collaboravo con la galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea purtroppo per problemi economici non di soldi insomma conoscere tutti la crisi in questo momento non più mi piacerebbe approfondire insomma questa tematica sono qui per questo collaboro con la BLIB un'associazione di carosino che si occupa di promozione sociale attraverso la pratica delle arti vorremmo aprire una libreria per ragazzi brava brava insomma tutte queste cose qui io sono Lucia vengo da carosino dal 2009 più o meno ho attivato dei laboratori di animazione e la lettura quindi mi interessa questa tematica per questo motivo cioè la creazione di spazi alternativi di educare anche collaboro con una cooperativa facciamo didattica ambientale niente ci occupiamo di didattica dell'arte scusate scusate il ritardo non mi piace non mi piace questa cosa io mi chiamo Li e lavoro in campagna perfetto mettiamolo così sei stata la più aderente al tweet ti assicuro perfetto come come è emerso già da questo veloce giro di presentazioni in realtà le competenze che già si trovano all'interno di quest'aula sono le più svariate nel senso che dal mondo animale alla giurisprudenza alla biologia all'arte alla danza insomma al design alla creatività c'è un po' di tutto questo significa ed è una richiesta che vi faccio che qualora e quando vi sentite se avete voglia di intervenire con la vostra esperienza sentitevi appunto liberi di farlo perché una delle premesse doverose da fare è che l'insegnante non ha la scienza infusa quindi chi parla non sempre dice cose cose giuste e cose o cose precise al punto da essere sufficientemente chiaro o sufficientemente esauriente su un argomento e spesso capita che invece ci siano persone che stanno ascoltando in quel momento che ne sanno di più quindi faccio già una vi chiedo vegna ma nello stesso tempo vi chiedo di intervenire di implementare quello che proverò a dire siccome ci sono in realtà svariati argomenti che si potrebbero trattare in questi giorni io proverò ad adattare anche la mia idea di presentazione la mia idea di lavorare in questi giorni anche su quello che ho sentito cioè cercando di dare un po' di informazioni rispetto a le varie tematiche che ho sentito affrontare e visto che vi siete presentati mi sembra doveroso raccontarvi velocemente quella che è la mia esperienza e che sostanzialmente è il motivo per cui sono qui allora io ho iniziato di formazione sono un archeologo quindi inizio a raccontare che ho imparato a scavare cioè uno dei gesti che è fondamentale nell'archeologia è quella di andare a fondo e questo è stato l'insegnamento più grande che la mia laurea mi ha dato cioè andare a fondo e andare a fondo per livelli per strati cioè ogni strato ti dà delle informazioni e più vai a fondo più riesci ad avere un quadro complessivo ma mai esauriente c'è un aneddoto molto carino di un insegnante in Inghilterra che insegnava archeologia e il primo giorno entra in aula con un vaso e questo vaso contiene delle rose poggia il vaso sulla sulla sua cattedra e lo distrugge con un martello dopodiché faccio la premessa in realtà le rose le aveva tolte prima di distruggere quindi sono le rose cioè dopodiché prende questi cocci e li butta nel cestino insieme quindi alle cartacce e tutto il resto e porta il cestino in evidenza e dice questa è l'archeologia cioè questa è quello che vi troverete a fare per arrivare ai fiori cioè per conoscere i fiori voi dovrete scavare e ricostruire quello che è successo a questo vaso assieme a bottiglie carte e qualunque altra cosa sia bucce di banana se sono rimaste ma tendenzialmente no magari in uno scavo troverete dei pezzi di ossa lasciamo perdere comunque però sarà questo cioè se volete sentire il profumo dei fiori dovrete ricostruire questo vaso ecco credo che questo sia stato per me l'insegnamento più importante dell'archeologia cioè se vogliamo sentire quel profumo dobbiamo cercare di mettere assieme dei pezzi ed è possibile che nel buttare via quei pezzi nel cestino qualcuno sia andato perso per cui ci saranno dei frammenti che dovremo provare a colmare noi quindi non ci sono per me ma ripeto è sempre una cosa personale non ci sono metodi o procedimenti definitivi anzi direi che se una cosa ce l'ha insegnata la scienza è che qualunque cosa noi consideriamo definitiva è solo in attesa di essere smentita quindi la cosa migliore da fare è essere pronti a smentire ogni volta quello che facciamo dopodiché ho iniziato a lavorare in un posto che si chiama Città dell'arte fondazione pistoletto proprio nei servizi educativi quindi cercando di costruire a partire da un laboratorio che si chiamava geografia della trasformazione perché la mia specializzazione era la topografia antica e quindi cercare di immaginare anche lo sviluppo di un territorio nel corso del tempo e quindi di cercare di mettere assieme il tempo più remoto con il tempo presente nella certezza che qualunque per chi è interessato ad esempio ai musei qualunque museo o è contemporaneo o non è cioè o vive il suo tempo o non è quindi qualsiasi ma direi che questo vale per qualsiasi attività che concerne la cultura e non solo o è o è nel suo tempo o non è non interessa non è non è rilevante e quindi è meglio perderla quell'informazione Michelangelo Pistoletto è un artista contemporaneo che a un certo punto costruisce anzi costruisce trasforma un vecchio opificio a Biella un opificio è una sorta di fabbrica dove si lavorava la lana Biella era ed è ancora un centro importante per la lavorazione dei filati e lo trasforma invece in un centro per per l'arte contemporanea e con un diciamo un sottotitolo specifico che è rispetto al sociale quindi il suo lavoro è molto centrato sull'aspetto relazionale arriva quindi a trasformare questo centro quindi da fabbrica in un centro interessato all'interazione con la società e in questa occasione mi occupo oltre a questi aspetti anche di seguire una residenza per artisti che si chiama Unidee e che con voglia fa arrivare artisti da un po' tutto il mondo in residenza per quattro mesi su un tema specifico che è proprio quello dell'arte per la trasformazione sociale responsabile quindi Unidee in questi quattro mesi promuove lo sviluppo di progetti che siano implicati nel sociale quindi il mio compito era quello di seguire anche e aiutare nello sviluppo di questi progetti nell'ambito di questo questo lavoro incontro il mio futuro socio che era un educatore in una comunità per minori un educatore Montessori e siccome un artista doveva costruire aveva intenzione di costruire un parco giochi per questa comunità seguendo quest'artista entro in contatto con questa persona e questo ve lo dico perché in realtà la bellezza della vita è data dagli incontri quindi più favoriamo questi incontri più stiamo meglio al mondo secondo me e decidiamo in sostanza di aprire un asilo Montessori a Città dell'Arte questo perché la comunanza era negli intenti nella visione era tale che ci sembrava doveroso e è interessantissimo aprire un centro di questo tipo io perché ero molto interessato a quell'ambito e non lo conoscevo e lui perché era interessato a portare in un altro ambito quell'esperienza quindi l'elemento unificante era perché non portare un metodo che riteniamo ancora valido in ambito diciamo creativo cioè siccome nei musei ci sono anche dipartimenti educazione proviamo a far confluire gli aspetti pedagogici all'interno di queste realtà e da lì si sviluppano tutta una serie di a catena tutta una serie di attività qui vedete ad esempio alcuni materiali Montessori questo perché questo per noi almeno per quanto mi riguarda è l'aspetto più interessante quello che per me sarà anche uno degli aspetti futuri del mio lavoro cioè la la fabbricazione l'ideazione di materiali Montessori vedremo perché chiamiamo materiali e cosa sono i materiali Montessori un po' più avanti nel frattempo passiamo a questa è la signora l'ho messa qui giusto per farvela vedere anche per bilanciare un po' i generi questo è una collaborazione tra l'altro con dei docenti che avrete se non sbaglio il prossimo venerdì cioè con Matteo Guzzoni e Augusto Pirovano di Focus ed è un progetto che è stato realizzato alla Biennale d'Arte Urbana di Bordone nel 2011 che si chiama Vilmobile Vilmobile è un'evoluzione di un progetto ideato da Focus che si chiama Critical City ed era l'idea ed è l'idea di provare a progettare un ambiente educativo sulla rete quindi uno spazio che però facesse spingesse i bambini le scuole i centri quelli che in Francia sono chiamati centri sociali che noi possiamo chiamare oratori ma non sono oratori nel senso che sono laici però centri aggregativi per bambini mettiamo e le famiglie sulla realizzazione di alcune missioni che si trovavano su questo sito cioè delle richieste svolgi questa attività fuori nella tua città ed erano delle missioni di indagine di scoperta queste missioni dovevano essere documentate attraverso fotografie videocamera o quant'altro e caricate sul sito per poter procedere in un gioco se vi interessa poi lo vediamo in maniera più approfondita ecco io metterò ogni tanto del se vi interessa così in base ai vari interessi muoviamo in una direzione piuttosto che in un'altra dall'anno scorso dal 2012 sì con la società che si chiama associazione di idee di cui sono presidente gestiamo anche l'attività educativa per il castello di Masino che è un benefai e qui ci siamo messi diciamo in gioco cercando di creare una serie di attività che potessero rendere un castello come quello di Masino molto complesso perché è un castello che ha un suo parco che ha una sua stratigrafia storica nel senso che è un castello vissuto da una famiglia per un largo e ampio lasso di tempo e che ha al suo interno quindi tutta una serie di materiali diversi di vita ma non riconducibili a un secolo preciso quindi in realtà è una vera e propria indagine quindi cercare di aprire con nuovi percorsi la conoscenza di un bene storico così complesso e se volete poi anche questo lo vedremo in maniera più approfondita e poi insegno in un master universitario che si chiama Master in Educational Management per l'Università di Vercelli e su questo direi di non non mi dilungo oltre perché tanto non credo possa più di tanto esserci utile in questo momento ecco questo l'ho preso perché ci sono nella nostra vita ci incontriamo è una cosa che ho trovato su internet lo dico subito e mi ha divertito molto perché racconta molto bene il nostro incontro negli stereotipi cioè anche nell'educazione saremo bombardati da una serie di stereotipi e molte volte ci cadremo prendiamone atto ma prendiamone atto e cerchiamo di evitarli ogni tanto anche allora ho giocato in questo cercando di di inserirmi non so se mi vedete ecco e questi sono tutta una serie di scrittori che per raccontarsi usano uno stratagemma molto semplice che è quello di appoggiarsi per dare un tono alla propria testa quello che vogliamo fare oggi che proviamo a fare in questi giorni è considerare che sotto la testa c'è un corpo e quindi si può utilizzare anche quell'altro basta direi che questa può essere sufficiente come premessa ecco la premessa la premessa la leggo da da questo libro che poi vi leggerò leggerò come prima lettura o seconda e dice subito dopo l'inizio c'è una tirata lunghetta e un po' noiosa lo studente dovrà sopportarla io cerco a quel punto di dissipare ogni ambiguità nella speranza di non far perdere tempo più avanti lo dico questo è un libro del 34 ma perché effettivamente dovrò fare la stessa cosa cioè una piccola premessa un po' lunghetta un po' noiosa perdonatemela lo so che c'è quando non ce la fate più ci sarà una pausa cioè alzate la mano facciamo la classica pausa e la risolviamo lì quindi scuola 1.0 la premessa è quello che un po' tutti abbiamo vissuto cioè l'esperienza della scuola ed è quella da cui dobbiamo partire per capire pregi e difetti e possibilità e sviluppi di altre cose di altre forme che si possono affiancare a un metodo tradizionale e ci saranno una serie di critiche allora lo dico per i miei insegnanti non è che ce l'ho con loro ce l'ho con e non ce l'ho neanche con il sistema ce l'ho con il non modificare mai i punti di vista quindi ce l'ho con un'idea allora la scuola tradizionale è arrivata al punto in cui non si riesce più a produrre eccellenza cognitiva qui vediamo un genio della lampada tra l'altro uno degli attori che ci aiuta a masino nei percorsi c'è un percorso teatrale questo signore ci aiuta oltre a fare il genio atteggiamenti sociali positivi questo l'ho messo perché è sempre in tenerisce infatti impegno ideale in creatività e cultura questo è ho messo un altro stereotipo creatività e cultura mani sporche coi pennelli perché? allora la struttura della scuola e i suoi presupposti teorici sono stati definiti durante l'illuminismo e messi in atto all'inizio della grande rivoluzione industriale circa 200 anni fa all'incirca ispirandosi a un modo di intendere i rapporti sociali l'apprendimento la cultura la comunicazione che oggi non è più alla base della nostra civiltà cioè se qualcuno vuole e noi speriamo che qualcuno voglia in 200 anni qualcosa è cambiato ok fatta questa premessa dobbiamo chiederci perché quel sistema che è nato a quel tempo si sia modificato così poco non è che non si sia modificato ma si è modificato in maniera molto 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 lenta ecco questo è il punto di partenza cioè la scuola nasce in un contesto specifico e per rispondere ai dei bisogni specifici che sono quelli della grande scolarizzazione ma anche del del bisogno di creare delle figure professionali figure professionali che devono fare questo cioè devono stare in una catena di montaggio sostanzialmente cioè io ti dico cosa devi fare tu lo fai più ne fai meglio è e su questo poi magari lo vediamo anche meglio il sistema premi e incentivi funziona benissimo cioè io ti dico devi fare devi arrivare da qui a qui è un bullone più ne fai più ti pago più ne fai più ti do carote più ne fai più ti do medaglie e tu ne fai più che puoi fin qui questo è il sistema di apprendimento la dico un po' esagerando ma a cui siamo stati abituati no? e parlandone prima a cui sono abituati anche i cani cioè più ti siedi più ti do crocchette quindi non dico che ci stanno trattando come cani ma e non volermene se faccio lo uso come diminutivo ma siamo molto vicini a questo sistema o i cani sono stati trattati come noi cioè possiamo anche girarla così tutto ciò che è umano ma forse anche non solo umano se vogliamo ampliarlo tende al cambiamento e al progresso i contesti formativi non fanno eccezione allora qui forse dobbiamo intenderci sul concetto di progresso anche cioè è vero che tende al cambiamento sul fatto che tende al progresso può darsi cioè se lo intendiamo come un procedere senza moralismi cioè un procedere tuttavia nell'ambito educativo la scuola tradizionale rimane ancorata a modelli e soluzioni modelli e soluzioni che non favoriscono l'adattamento al contesto attuale cioè ripeto sono passati 200 anni tutto sommato qualcosa è cambiato eppure continuiamo a pensare che il mondo sia fatto sostanzialmente da grosse fabbriche in cui la richiesta è arrivi da qua parti da qua e arrivi a questo punto 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 cioè non mi devi fare altro non è che devi allargarti no stai lì e io ti premio né allo sviluppo di competenze e abilità che permettono agli individui e alla comunità di progredire a livello umano sociale culturale e politico ecco abbiamo già visto anche nel giro di presentazioni l'apprendimento tocca tutti gli aspetti della vita umana è per quello che è così importante nel senso che dall'aspetto sociale a quello culturale cioè dall'aspetto di relazione all'aspetto culturale poi anche qui dovremmo fare un lavoro sulle parole cioè cosa significa cultura a quello politico l'educazione è fondante e vedremo se è il caso ancora di parlare educazione perché è talmente connotata che ne sentiamo il peso ogni volta che la pronunciamo come parola lo Stato nazionale grazie alla scuola per come la conosciamo ad oggi obbliga circa 10 milioni di persone solo in Italia a passare la loro giornata in luoghi avulsi dal contatto con la realtà quindi una delle prime problematiche è che noi scopriamo che esiste una società se va bene a 18 anni se va male verso i 30 35 cioè per 35 anni la società non esiste e noi non esistiamo per la società cioè il rapporto comunque è bionivoco nessuno ci considera più di tanto sociali vedrete che già all'inizio del novecento ad esempio a Montessori parlava del trattamento del bambino come trattare il bambino come un animale extra sociale cioè una cosa che va tenuta a parte nel bene e nel male perché è un essere debole perché è un essere fragile perché è un essere che non capisce che non può dialogare insomma tutta una serie di cose che ci poi ci portano alla situazione di crisi di cui si è anche parlato prima quindi avulsi dal contatto con la realtà impegnati a svolgere attività poco soddisfacenti in contesti competitivi e stressanti ripeto non me ne vogliono gli insegnanti ma spesso questa è la situazione poi ovviamente come si diceva le persone fanno la differenza per cui in un contesto in un ambiente educativo che pone più o meno queste premesse qualcuno riesce a costruire altri sistemi a mitigare laddove è possibile e invece oppure a spingere oltre questa situazione e mentre sembra che molti miglioramenti siano avvenuti in molti settori industriali la scuola industrializzata fatica a migliorare innovarsi trasformarsi e trasformare la società quindi se da una parte effettivamente qualche miglioramento lo possiamo notare eppure se leggiamo quello che succede a scuola siamo ancora molto 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 calati in quel lontano tempo ho controllato anch'io l'immobilità tutto bene allora noi siamo passati da questo no? dal parlare alle folle in contesti comunque dove possiamo vedere la natura a questo andiamo con la prima lettura la prima lettura ci dice questa cosa qua la Montessori ci presenta un'interessante delucidazione sugli studi scientifico-medici messi a punto all'inizio del secolo scorso circa la particolare ricercata struttura del banco su cui i bambini sedevano a scuola lo studio era certamente incentrato sulla individuazione del banco migliore per combattere la scogliosi ma dietro a questa motivazione medica si nascondeva la necessità da parte del corpo insegnante proprio di esercitare quello scrupoloso e indispensabile controllo sullo studente di cui parla Rogers il banco andava costruito in modo che il fanciullo e qui inizia la citazione fosse il più possibile visibile nella sua immobilità risparmiandogli ogni mossa affinché lo scolaro fosse incastrato bene nel suo banco quindi qui finisce la prima lettura quello che serve a cui che serve questo impianto è nel bene a combatterla a scogliosi e questo poi fate le vostre i vostri pensieri su questa su questo bene nella realtà per promuovere il controllo dello studente quale controllo? il fatto che fosse fermo stesse fermo doveva essere immobile risparmiandoli noi risparmiamo ogni mossa quindi come l'idea che e questa è un'idea dell'adulto il fatto che il movimento sia fatica e quindi se stiamo seduti risparmiamo questa è l'idea che utilizziamo da adulti anche verso i bambini un'idea oziosa veramente proprio nel termine migliore che mi viene oziosa affinché lo scolaro fosse incastrato per bene nel suo banco quindi l'idea di porre degli oggetti sugli scaffali cioè non è tanto di più per questo motivo se nel corso di questi incontri vogliamo cambiare posizione io sono ben lieto fate come preferite uno dei fattori che più influenza la mancanza di innovazione nel settore scolastico è l'immobilismo di fatto che il governo esercita sull'organizzazione e la gestione delle scuole di ogni ordine e grado spendendo circa il 5% del PIL per produrre un'istituzione totale che ha il merito di pagare molti stipendi ma il demerito di costare troppo e generare insoddisfazione e assenza di stimoli sia nei docenti che negli studenti questo è lo so è un tema che può aprire assolutamente moltissimi dibattiti nel senso che sentiamo quotidianamente che non c'è abbastanza attenzione anche economica verso la scuola che non ci sono incentivi che verso gli insegnanti che anche a livello di edifici su questo mi trovano assolutamente d'accordo non c'è alcuna cura sentiamo tanto parlare di insegnanti sentiamo però un po' meno parlare degli studenti secondo me cioè se pensiamo all'informazione rispetto al tema scuola sentiamo sempre parlare degli insegnanti e un po' meno parlare degli studenti che sono in fondo il motore dovrebbero almeno in fondo essere il centro della scuola dell'idea di scuola questo che cosa significa questo che secondo me e ripeto qui entra il secondo me quel quel denaro potrebbe essere speso meglio e benissimo se ne arriva di più e cominciare a spostare l'obiettivo ma non tanto perché vogliono male gli insegnanti anzi proprio perché li voglio bene spostare l'obiettivo da focalizzare sempre l'attenzione sul concetto del della fatica che l'insegnante mette nell'insegnare a come migliorare l'insegnamento inoltre i risultati ottenuti sono considerati scarsi da tutte le più importanti agenzie internazionali misurando l'alto tasso di assenze tra i docenti l'alto tasso di abbandono scolastico alle medie e alle superiori tra i figli delle classi meno abbienti i generalmente bassi risultati negli esami e nei test standardizzati la bassa percentuale di laureati l'Italia è ultima in Europa per il numero di uomini laureati e per la diffusione della cultura scientifica in definitiva le nuove generazioni vanno a scuola di più per non imparare a sufficienza e ritrovarsi inoltre con un bagaglio esperienziale ed emotivo depauperato cioè il clima sostanzialmente non è dei migliori adesso faccio una seconda lettura proprio sul tema dell'insegnante questo è sempre un libro del 34 poi vi dico chi sono gli autori il docente o lettore universitario è un pericolo pubblico assai raramente egli riconosce la propria natura o posizione è semplicemente uno che deve parlare per un'ora sto facendo anche li leggo per ricordarmi dove sono è probabile che la Francia abbia conquistato il primato intellettuale in Europa quando l'ora accademica fu ridotta a 40 minuti anch'io ho tenuto lezioni l'esigenza principale è possedere le parole sufficienti a riempire i 40 o 60 minuti al professore si paga il tempo i risultati restano inverificabili chi veramente sa può comunicare in pochissime parole tutto il comunicabile il problema economico dell'insegnante di violino di lingua di qualsiasi cosa è dilatare così da essere pagato per più lezioni per quanto onesti siate il pericolo esiste sempre anche se lo sapete ne ho avvertito il brivido anche per questo libretto i miei editori in piena e buona fede ma anche nella necessità di fare un preventivo mi inviarono un contratto da 40.000 a 50.000 parole può anche darsi che io superi questo limite ma esso introduce un fattore una componente di errore una distrazione dal vero problema qual è l'enunciazione più semplice? nessun insegnante è mai fallito per ignoranza è una constatazione che ogni professore fa per esperienza gli insegnanti falliscono quando non riescono a tenere la classe l'istruzione autentica deve essere limitata in ultima analisi a quanti vogliono sapere allora questo lo leggo proprio perché cominciamo a introdurre finisce quasi quella premessa lunghetta e un po' noiosa su come deve cambiare anche il ruolo dell'insegnante cioè per cambiare questo lo vedremo spero man mano per cambiare il concetto di apprendimento di scuola e affiancare all'idea di apprendimento formale altri tipi di apprendimento informali non formali dobbiamo iniziare a riconsiderare che cosa? l'ambiente quindi in realtà dovremmo rivedere già questo setting d'aula perché questo tutto sommato riprende lo schema dell'oratore e riconsiderare il fatto che tra di voi ci siano persone probabilmente su certi aspetti più competenti magari non sono su certi dell'oratore stesso il fatto che e questo è ormai scientificamente provato che pensiamo meglio in movimento cioè se ci muoviamo noi ragioniamo e funzioniamo meglio quindi che questo e questo non sono disgiunti che questa cosa funziona in sinergia che collaborano non sono due corpi distinti non c'è la maggioranza e la minoranza riescono a governarsi in teoria questa parte qua quindi siamo esseri che si possono governare autonomi ecco questa parola autonomi è la parola principale secondo me cioè lo sviluppo dell'autonomia individuale deve essere uno degli obiettivi principali e che dovrebbe far esultare qualsiasi docente per fare questo lui deve decrescere come diceva qualcuno per crescere uno deve decrescere l'altro quindi l'insegnante deve imparare a essere presente il meno possibile soprattutto poi vedremo quei più piccoli meno parole si usano più si usano i gesti più si usa la comunicazione gestuale il movimento più si dà la possibilità di sbagliare maggiore è il favore che facciamo all'essere umano che ci sta di fronte e qui entra un altro elemento amare il prossimo non è soltanto una cosa che rientra nell'ambito della della religione ma fa parte del di qualsiasi attività relazionale cioè se siamo a contatto con delle persone e vogliamo trasmettere delle cose lo facciamo soltanto se in realtà siamo veramente interessati a farlo e qui entra un altro elemento ancora l'interesse questo lo potete verificare anche adesso se sono interessato capisco se non lo sono me ne fotto scusate ma questa è proprio la definizione più precisa cioè quando siamo su un banco di scuola io me lo ricordo perfettamente nei momenti in cui non ero interessato disegnavo facevo altro guardavo fuori dalla finestra aneddoto il padre di pistoletto era anche lui pittore e tra l'altro era sostanzialmente sordo quindi pensate un bambino sostanzialmente sordo direi all'incirca fino a 800 o inizi novecento essendo il padre di pistoletto ma direi fino a 800 in aula in quel banco per la scogliosi sordo quindi con un insegnante che parla cosa può recepire è diventato un ottimo disegnatore perché guardava fuori e c'era una bella chiesetta e lui ha iniziato a disegnare quindi fortunatamente mente e corpo ci aiutano a salvarci la vita anche non sempre va bene però nel senso che l'ambiente emotivo familiare sociale ci condiziona quindi se siamo in un contesto favorevole probabilmente anche se incontriamo degli ostacoli li superiamo e va tutto bene se i contesti si fanno sempre più difficoltosi diventano veri e propri ostacoli e ci impediscono di avanzare allora sono le undici ditemi voi quando siete stanchi ripeto perché allora proviamo ad andare avanti ancora un po' gli attuali sistemi di istruzione sono dotati di una propria serie di ipotesi e di obiettivi è importante per noi tenere a mente che questi sistemi non sono però permanenti o inevitabili sono cambiati in passato e senza dubbio possono cambiare di nuovo in futuro una delle cose di cui mi sono accorto nella mia piccolissima esperienza di formazione con persone adulte che vengono magari anche proprio dal mondo dell'educazione e che in realtà a parole nell'idea siamo tutti d'accordo su questi principi cioè sul fatto che l'autonomia l'interesse il movimento l'ambiente siano cose importanti ma nel momento in cui chiedo tuo figlio lo manderesti in un'altra struttura che non sia quella canonica tradizionale riconosciuta ma che rispecchia tutto quello che abbiamo appena detto quindi in cui c'è libertà di movimento in cui ci sono materiali studiati scientificamente in cui si sviluppa l'autonomia in cui si cerca l'interesse del bambino fatta questa premessa ma cioè deve poi fare un percorso che non è proprio quello canonico ecco tu lo manderesti tuo figlio ecco su questo c'è il brivido nel senso che effettivamente poi la realtà è un'altra cosa nel senso che quando poi cioè nel teorico tutto bene ma l'idea di essere noi portatori di questo cambiamento induce a ripensare al fatto che forse però se fa come tutti gli altri ha più possibilità di fare come tutti gli altri cioè perché devo proprio il mio deve cambiare proviamo che prima provano gli altri poi se va bene se ce ne sono tanti altri allora inseriamo anche il mio cioè l'idea è che il cambiamento debba avvenire per masse quando in realtà il cambiamento è una cosa che cresce si sviluppa non avviene per salvo le grandi rivoluzioni non avviene per blocchi per blocchi contrapposti e che quindi è proprio dalle persone che ritengono tutta questa serie di valori validi che deve avvenire questo cambiamento cioè la testimonianza è fondamentale ora non ve lo chiederò anche perché non lo sapete voi e vi deve interessare soltanto voi se lo fareste però deve essere la domanda che poi ci poniamo quando andiamo a fare delle attività cioè è una cosa che sarebbe valida per me bambino ripensando a me bambino per mia figlia nipote o persona a cui voglio bene questo percorso lo farei fare vale il rischio perché ogni ogni cambiamento è un rischio uno sforzo noi siamo tendenzialmente conservatori cioè cerchiamo di cambiare il meno possibile anche se in realtà cambiamo tutti i giorni cioè l'idea che abbiamo letto prima del risparmiare è un'idea che sviluppiamo più cresciamo man mano che cresciamo abbiamo questa idea del risparmiare tempo risparmiare spazio risparmiare energia risparmiare fatica mentre in realtà un bambino si arricchisce e se vedete un bambino che è concentrato su un'attività quando esce da quell'attività che lo ha concentrato in cui ha messo in moto la sua persona ne esce arricchito ne esce felice più carico di energia perché i principi sono diversi l'educazione per come è concepita di norma raramente coinvolge i bambini in processi autenticamente interattivi ecco quando ho scritto questa slide io avevo messo non avevo scritto autenticamente poi mi è stato segnalato che effettivamente nella scuola ci sono dei processi interattivi il problema è che non sono autenticamente interattivi cioè che tra autenticamente interattivi e interattivi c'è una differenza nel senso che anche in questo momento io posso dire che sto facendo interazione con voi ma non sono in questo momento molto distante dal sistema imbuto cioè travaso sacco pieno sacco vuoto lavagna vi faccio vedere voi state zitti non fate niente ecco non siamo ancora autenticamente interattivi quando è che diventa autenticamente interattivo un processo di questo tipo se volete possiamo già parlarne adesso poi vediamo come la penso io ma possiamo cominciare a parlarne adesso cioè quando è che possiamo passare da un sistema che prevede processi interattivi a processi perché tutti i sistemi possiamo dire che sono interattivi alla fine anche se voi state in silenzio siamo interattivi io parlo voi ascoltate per me c'è interazione poi se non ascolti perché sei sordo ebbè qui non ho un altro discorso ancora però se disegni vuol dire che io ti ho ispirato e quindi è sempre interattivo quando è che però diventa autenticamente interattivo quando per esempio ti cercava posso parlare no certo se no tutta la premessa che ho fatto sarebbe da buttare però scusami ti interrompo perché questa è sì facciamo sempre girare questo il gelato però la tua premessa è interessante perché noi siamo e rimaniamo formati con l'idea posso parlare cioè non è non è scontato che ci sia questa interazione autenticamente interattiva quando pensiamo all'interazione con il gruppo della classe ovviamente non basta soltanto fare delle domande io parlo secondo sempre la mia esperienza e su come mi sono formato io ma per me il concetto autenticamente interattivo significa far interagire l'alunno in base alla sua esperienza magari mettere in atto il suo modo di pensare quindi che ne so un bambino che ti racconta come bisogna interagire con il cane magari è un modo autentico un'idea personale singolare di come si interagisce e magari metterlo in mostra i bambini acquisiscono l'esperienza di quello stesso di quello stesso bambino e di conseguenza in quel caso viene appunto un processo autentico quindi c'è oltre al fatto del trasferire le proprie esperienze ai bambini quindi c'è soltanto un concetto univoco e in quel caso c'è un concetto più univoco quindi è anche il bambino a trasferire la sua esperienza e a far provare la sua esperienza agli altri al resto della classe io l'ho inteso in questo senso chiedo se qualcun altro vuole giusto per esperienza per quanto riguarda quello che faccio io faccio attività musicali con i piccoli l'interazione lì diventa autentica nel senso che se io propongo un'attività per esempio ritmica non la propongo mai più di una volta da parte mia poi l'invito è sempre a far riproporre dal bambino un'altra cosa e tutti gli altri cioè diventano attori non solamente qualcuno che sta lì ascolta si addormenta come quel poverino che sta sulla fotografia e molte volte ho le maestre in compresenza che intervengono per farli stare fermi per non interrompere se dicono qualcosa e la lotta non è con i bambini è con le insegnanti e quindi mi sono ritrovata poi in tutto quel fatto anche del allora più che altro penso che l'autenticamente interattivo sia anche prendere delle proposte da parte dei ragazzi a parte la mia esperienza a livello musicale che forse è anche più semplice più facile in quel senso però anche a scuola adesso stavo pensando a mia figlia io forse ho quasi dimenticato quando l'ho fatta io l'esperienza scolastica ma non è vero mi ricordo ancora però sto vivendo in contemporanea l'esperienza di mia figlia scuola media e lei accusa sempre i professori soprattutto qualcuno invece i professori che adora sono quelli che usano quel sistema perché grazie a Dio ci sono qualcosa sta cambiando quelli che ogni volta che parlano anche di un argomento per dire che dovrebbe interessare i ragazzi in cui dovrebbero essere i ragazzi ad entrare poi in conversazione in tema vengono comunque bloccati e se loro propongono di fare altro l'insegnante poi ritorna su quello no state fermi adesso dobbiamo fare dobbiamo fare i programmi siamo indietro cos'è del genere gli insegnanti che invece vanno nella direzione di anche cambiare a un certo punto quello che può essere che ne so quello che avevano programmato per la giornata seguendo il il fiume poi delle proposte dei ragazzi perché basta dargli a e loro ti travolgono con quello che hanno in mente quelli poi fanno venire fuori la creatività l'interesse per la materia l'interesse per lo studio la voglia di fare e di non stare lì ad addormentarsi quindi deve essere proprio un mettersi da parte e accettare la proposta di chi abbiamo di fronte e i ragazzi sono ricchissimi quindi penso in questo senso anche grazie c'è qualcun altro? sì una cosa secondo me l'insegnante è solo un ponte di comunicazione è un ponte per far sì che il bambino il ragazzo possa raggiungere un obiettivo che sia un proprio obiettivo non quello comune a tutti gli altri perché ognuno ha i propri limiti e bisogna lavorare su quei limiti nel rispetto di tutti quindi l'insegnante non è qualcuno che alla fine io dico io faccio io comando è qualcuno che deve portare il ragazzo a raggiungere quell'obiettivo con uno scambio reciproco aggiungo solo una cosa perché se no me la dimentico non volevo aggiungere niente ma aggiungo solo perché se no ho paura di dimenticarmela e non è una correzione è semplicemente per me un'aggiunta e una una mia precisazione su come la penso una cosa che potrebbe esserci d'aiuto è innanzitutto pensare che nello sviluppo i tempi sono diversi cioè le persone hanno delle attenzioni verso innanzitutto lo sviluppo della persona le proprie competenze motori intellettuali fini con tempistiche con tempistiche differenziate quindi pensare a programmi a compartimenti stagni con tempistiche predefinite per tutti significa sicuramente prenderci per una parte del gruppo e fallire miseramente con l'altra come si fa a questo punto però a colpire nel segno sulla classe cioè se se io ho perché poi i problemi cioè la classica domanda va bene bravi tutti nella teoria ma nella pratica come caspita faccio a fare in modo che ci siano queste attenzioni e che io possa mettere nelle condizioni soprattutto nello sviluppo il bambino di trovare i suoi tempi su questo entreremo meglio nel dettaglio e ripeto ancora una volta ma da qui in poi non lo ripeto più perché spero che sia chiaro che è una mia visione ed è la visione di alcune persone poi non su cui possiamo parlarne però penso che ho le mie posizioni ma sono pronta a cambiarle nel caso secondo me c'è possibilità di fare questa cosa soprattutto con i bambini chiaramente l'adulto ha superato tutta una serie di cose una capacità di astrazione maggiore vedremo anche che e questo lo vediamo probabilmente domani c'è comunque per ognuno e questo rimane negli adulti io lo vedo già anche tra di voi una differenza negli stili di apprendimento cioè qualcuno è più portato in una determinata formula di apprendimento qualcun altro in un'altra formula per questo non parlerei troppo di limiti capisco quello che vuoi dire ma parlerei di differenze nell'approccio all'apprendimento e di potenzialità diverse negli ambiti nel senso che è vero che poi ognuno di noi sviluppa si interessa a determinate cose rispetto ad altre e quindi potenzia quel suo interesse piuttosto che un altro e lo fa soprattutto nei primi anni quando costruisce anche il suo corpo le sue abilità rispetto a quell'interesse quindi a quel punto c'è una differenza tra una ballerina un orafo un ricercatore che sta in biblioteca tutto il tempo ma non solo a livello mentale ma anche a livello fisico di capacità un orafo avrà un'abilità nella manualità minuta decisamente superiore mi auguro a chi sta in biblioteca e fa questo ma perché sviluppano competenze diverse e il nostro corpo vedremo come si modifica in base anche la lingua la lingua che parliamo il nostro sistema fonatorio si costruisce proprio sulla lingua sulla prima lingua che impariamo la seconda sarà completamente cioè imparare un'altra lingua rispetto alla prima sarà diverso perché noi abbiamo un sistema fonatorio costruito per la nostra lingua madre ecco questo più o meno l'ho già detto e siamo quasi alla fine così facciamo la pausa una delle caratteristiche dei piani di studio convenzionali è il fatto che le idee sono confinate in compartimenti stanni ma non solo sono confinate in compartimenti stanni nel senso che ci sono le lettere la matematica le scienze l'arte ma il fatto anche che vengono distribuite su cadenze ben precise e stagne in tempi e spazi ben precisi e infatti aggiungo eppure non è chiaro quali siano i vantaggi di tali compartimenti stagni perché effettivamente poi il fatto di somministrare proprio secondo me il termine giusto somministrare sapere nei quantitativi come le crocchette 10 chili può prendere dico non lo so mezzo chilo di crocchette al giorno ecco somministrare il sapere in questa maniera è non sappiamo bene quali vantaggi possa dare cioè non è proprio cibo ma non potrebbe essere anche una questione di precauzioni di precauzioni cosa intendi per precauzioni? nel senso che molto spesso succede che l'incompetenza invece di essere da questa parte è da quella quindi magari si tutelano cioè da parte dell'insegnante dici? sì ok scusami perché non avevo capito le parti sì quindi è una sorta di tutela per farsi che comunque delle informazioni di base vengano date comunque potrebbe essere anche questa magari sì non so se mi sono spiegato però proviamo a dirla così è un po' come dire io ti do un'armatura è pesante ti muoverai un po' così però se cadi secondo me non ti fai male non so se ho reso l'idea cioè è dire ti costruisco una precauzione così poi sono cazzi tuoi se cadi no attenzione però non ho detto che sia giusto no no lo so però il concetto è quello per quello dico che secondo me l'idea è ti insegno a camminare e avere un equilibrio buono in modo tale che tu possa camminare e per farlo ti faccio cadere cioè comunque cadi ok è una cosa che non ho detto è introdurre il fatto che l'errore fa parte della vita allora se io punisco l'errore non favorisco la crescita ma dico beh se cammino così nessuno mi vede va bene comunque nessuno mi sta dicendo che va male quindi in teoria riesco a camminare non cado nessuno mi punisce va bene per me questo è camminare è pericolo cioè dico che non è secondo me la formula migliore quello che noi dobbiamo cominciare a ragionare è su cui dobbiamo ragionare qual è la formula non dico migliore ma più adatta a uno sviluppo quindi è apprendimento solo un consumo passivo di messaggi e informazioni la documa è retorica ok la bellezza e la potenza di un approccio critico risiede nel fatto che possiamo essere scettici e indagare su ogni area della nostra vita ok quindi se sviluppiamo l'autonomia e quindi la capacità critica fin da da piccoli e per farlo vedremo che adesso non ho non volevo aggiungere niente perché ripeto ho una mia visione rispetto a autenticamente interattivo su come sia possibile che questa cosa sviluppi poi l'autonomia cioè come l'autonomia sia una cosa che si sviluppa in autonomia cioè io non te la posso insegnare adesso tu diventi autonoma allora per diventare autonoma devi A quando esci di casa ricordarti le chiavi B quando cammini per strada avere qualche moneta così succede qualcosa avere il telefono così mi puoi chiamare cioè non è questo non posso insegnartelo in questa maniera l'autonomia si scopre si scopre in autonomia e quindi la cosa difficile è riuscire a mettere in atto un ambiente che sia capace di permettere questa cosa ripeto soprattutto ma non solo per i più piccoli ecco un bambino per esempio non è un animale extra sociale cioè fin da piccolo fa parte della società e fin da piccolo deve comprendere il funzionamento della società e per farlo deve vivere cioè deve entrare a contatto con la società capire come funziona il lavoro cosa sono i soldi tutte quelle cose che non riusciamo a pronunciare a un bambino perché crediamo che non sia in grado di comprenderlo chiaramente con degli strumenti cioè qual è il lavoro dell'adulto il lavoro dell'adulto è fare design ecco che entra in campo anche la parte creativa cioè studiare gli strumenti più appropriati e più idonei per trasmettere e far sì che il bambino possa prendere da quegli strumenti quel messaggio un bambino può indagare il mondo naturale il mondo sociale può studiare la psiche e conoscere le relazioni in tutta la loro complessità il bambino può fare praticamente tutto nei gradi però può fare praticamente tutto a seconda del suo sviluppo il bambino è anche unico ecco un'altra cosa che va detta ogni bambino è unico quindi ha dei suoi tempi lo vediamo tendenzialmente ci sono delle fasi in cui un bambino cammina ma non tutti camminano lo stesso giorno non è detto che all'undicesimo mese si arrampica non tutti a seconda di come sono innanzitutto fatti loro di come si sta modificando il loro corpo e del fatto che c'è quello che la Montessori chiama un maestro interiore che fa muovere determinati periodi dentro il bambino e che gli dice adesso sei in grado di alzarti perché si sono chiuse le fontanelle perché il tuo corpo è in grado di cadere cadi lo dice cioè è semplicemente assecondare la funzione naturale che ci ha permesso di arrivare fino qua rendiamoci teniamo a mente e questo lo dico da archeologo che la scuola non esiste da millenni la scuola per come la concepiamo noi non esiste da millenni eppure abbiamo inventato tante cose nel corso dei secoli eppure siamo nati lo stesso anche se non c'erano gli ospedali cioè non consideriamo sempre tutto rispetto alla nostra prospettiva cioè teniamo sempre a mente che ci sono delle evoluzioni e valutiamo quelle che sono importanti che vanno mantenute rispetto a quelle che forse sono fuorvianti una caratteristica fondamentale di tale approccio è la creazione di un ambiente di apprendimento non gerarchico è importante che l'apprendimento non sia passivo e che la conoscenza non venga utilizzata come strumento di potere i bambini possono essere incoraggiati a mettere in discussione dubitare sfidare le certezze acquisite questo tipo di domande non possono ovviamente limitarsi all'interno della sola classe una volta che il processo critico si scatena comprenderà molte dimensioni della vita se volete approfondisco se no andiamo avanti perché direi che più o meno l'abbiamo detto saltiamo allora Montessori credeva fermamente che tutti i bambini preferissero naturalmente imparare in un ambiente organizzato che permettesse un elevato livello di scelta di controllo e autonomia scelta controllo e autonomia poi li vediamo un po' più nel dettaglio cosa significa scelto controllo e autonomia un ambiente dove i bambini non sono distratti da ricompense estrinseche e punizioni distratti cioè non incentivati distratti che alterano soltanto le loro preferenze vado così procediamo un po' più spediti su questa parte abbiamo osservato nel corso degli anni che è possibile per i bambini imparare liberi dalla pressione e dalla paura cioè quel discorso che facevo prima è possibile che il bambino impari a camminare anche non così non terrorizzato dal fatto che se sbaglio ho un peso di giudizio su di me cioè non consideriamo il giudizio solo come una cosa importante che fa crescere ma anche come una cosa estremamente stressante e che limita le possibilità perché abbiamo detto che se l'errore è fondamentale il giudizio limita l'errore limita la possibilità di sbagliare e quindi di apprendere dai propri sbagli gli incentivi esterni non sono più le uniche forze motrici l'apprendimento deve avvenire con una grande quantità di spazio tempo e divertimento adesso pian piano cominciamo a mettere in moto quello che dovrebbe essere anche il tema che ci guida grande spazio significa che ad esempio il bambino si muove il bambino si muove cioè può muoversi e che c'è un che c'è un tempo e c'è un ordine ma il bambino può muoversi che l'ordine non è quello che pensiamo come la disciplina imposta ma che c'è un tempo è uno spazio ma che in quel tempo e in quel spazio può muoversi in autonomia e che non è obbligatorio per imparare rompersi le scatole cioè che non è una condizio sine qua non che per imparare mi dispiace però devi faticare devi soffrire che in realtà noi impariamo molto di più quando siamo attratti quando qualcuno ci piace boom assimiliamo come come delle spugne perché l'attrazione l'interesse è il nostro motore attrazione siamo più partecipi se non ci attrae siamo distanti un clima di cooperazione perché un clima di cooperazione possa esistere ci deve essere un rapporto basato sulla responsabilità reciproca e il dialogo è inizialmente più difficile per l'insegnante che deve rinunciare alla sua posizione dominante ma i vantaggi sono molti tu mi piaci così come sei solo che ti vorrai diverso questo è il messaggio che diamo no? cioè con le parole diciamo una cosa ma poi nei fatti sostanzialmente diciamo devi cambiare perché così non vai bene cioè perché tu la matematica non la vuoi imparare? sei sbagliato perché questo calcolo non me lo stai facendo cioè lo fanno tutti ma allora sei deficiente e purtroppo capita io non dico che tutti gli insegnanti dicano sei deficiente tanto tu non lo sai non lo sai fare aspetta Michelino vuoi dirmi tu come si fa più B uguale C? no intervieni tu perché proprio non ci siamo tanto non ci riuscirà mai non dire neanche perdere tempo queste cose sono devastanti sono proprio devastanti e non dico che questa sia la consuetudine però già solo il fatto che esista è estremamente sbagliato e criminale criminale proprio l'apprendimento è un tentativo di capire il mondo noi stessi compresi si tratta di un compito molto urgente dal momento che la società sta cercando di fare i conti con un'enorme crescita materiale e il desiderio da parte di ognuno di avere uno stile di vita benestante cioè il sistema educativo deve cambiare anche perché deve cambiare la società per come stiamo adesso non possiamo più pensare di andare avanti e soprattutto se noi ragioniamo non soltanto in ottica localistica per cui diciamo vabbè tanto noi a Putignano ce la possiamo fare anche con le classi con il sistema tradizionale ha sempre funzionato andiamo avanti ma perché nel mondo una quantità enorme di persone si sta affacciando per la prima volta a un sistema di istruzione per la prima volta una quantità enorme allora se esportiamo il nostro sistema diventa pericoloso perché noi sappiamo dove sta portando il nostro sistema di istruzione e qui non metto l'apostrofo lo facciamo dopo questo facciamo pausa adesso direi di istruzione pericoloso pericoloso Grazie a tutti.